bene buonasera a tutti buon martedì e il tema di stasera riguarda le acque di bologna in particolare gli idronomi bolognesi ma non solo quelli perché se vogliamo parlare di acque bisogna fare alcune premesse che sono fondamentali per capire bene il tema le acque per bologna hanno avuto un'importanza enorme che va compresa ma compresa perché di fatto bologna è una città storicamente povera d'acque attraversata da un poco più di un ruscello che il torrente aposa il fiume più vicino è il fiume reno fiume peraltro a carattere fortemente torrentizio per cui diciamo con diverse anomalie nella sua storia ma è un fiume che comunque non è vicino alla città stiamo parlando di qualche chilometro e per quel che riguarda i tempi antichi e qualche chilometro parliamo di distanze molto importanti poi c'è un altro torrentello che il savena e fondamentalmente di corsi di acqua naturali significativi che riguardano la città di bologna abbiamo finito ce ne sono altri minori che comunque passano quasi tutti all'esterno della cinta muraria trecentesca fa eccezione rio valescura che attraversava piazza ma per il resto stiamo parlando di quindi una città povera d'acque ecco una città povera d'acque che però tra dodicesimo e tredicesimo secolo era tra le principali città europee diciamo competendo addirittura con parigi con differenze però sostanziali dal punto di vista delle acque perché le altre grandi città europee hanno sempre avuto a disposizione acque importanti parigi alla senna roma al tevere firenza l'arno le città londra altamigi le città che non hanno grandi fiumi nei pressi hanno però il mare pensiamo a genova piuttosto che venezia bologna la posa e la cosa straordinaria che bologna ha potuto diventare una grande città in nel medioevo con delle opere artificiali colossali che sostanzialmente stiamo parlando dei canali di reni di savena quindi le acque che alla città mancavano vi sono state portate in maniera artificiale opere colossali si parla della fine del dodicesimo secolo per la realizzazione di queste di questi canali artificiali 1191 1176 ma in realtà queste sono date antequem è certo che le acque del del reno e del savena erano sfruttate e portate in città anche in epoche anteriori per esempio le acque del savena hanno alimentato il fossato della cosiddetta cerchia del mille che va bene poi si discute se siano del mille veramente o meno ma rilievi archeologici in effetti datano al 1080 circa con la termoluminescenza e la cottura dei mattoni della seconda cerchia muraria ecco la seconda cerchia muraria era alimentata in zone della città sicuramente dalle acque del savena parliamo della zona nei pressi di san giovanni in monte e però stiamo parlando del di prima del del 1100 quindi insomma altri altri elementi fanno pensare che anche l'acqua del reno è stata portata nella città verso il 1000 e la navigazione sicuramente è stato uno tra gli elementi importanti oltre agli altri grandi temi dei canali artificiali vale dire vaccinazione del grano esigenze difensive esigenze igieniche e l'industria ecco la le acque bolognesi sono state sfruttate in maniera probabilmente unica facendo il confronto al resto d'europa mediante innovazioni tecnologiche importanti una di queste è la chiavica oggi parliamo di chiavica e pensiamo a chiavi che come sinonimo di fonia è una visione parziale e fondamentalmente non corretta la chiavi che in realtà per chiavi che si intende una derivazione da un canale artificiale quindi una canaletta regolata da un apparatoio è questo che contraddistingue la chiavica questo permette di regolare la portata d'acqua in maniera abbastanza precisa e quindi di fare funzionare delle macchine idrauliche a portata d'acqua costante questo è un punto fondamentale perché se pensiamo all'industria della seta sappiamo che bologna ha primeggiato per la produzione della seta e le macchine da seta erano macchine estremamente sofisticate ma anche di una certa fragilità cioè non erano come le nove coppie di ruote meccaniche che servono per la macinazione del grano lungo il canale delle moline dove nel canale delle moline si sfrutta il salto d'acqua notevole c'è una serie di salti nove appunto che facevano andare le ruote e per lì c'era l'esigenza di macinare grano le macchine da seta erano molto più delicate avevano bisogno di flussi d'acqua costanti ed erano capaci di funzionare anche con bassissimi flussi d'acqua teniamo presente che le macchine da seta nel periodo d'oro della seta bolognese erano alimentate esclusivamente da canalette derivate dal canale di reno ma parliamo di centinaia di ruote idrauliche per la filatura della seta centinaia di ruote idrauliche che vuol dire che ogni ruota aveva a disposizione una piccola quantità di acqua visto che comunque una grande quantità di acqua proseguiva lungo il canale di reno per raggiungere il canale delle moline per vaccinare il grano quindi uno degli aspetti su cui riflettere anche la capacità ingegneristica che si è sviluppata fin dal medioevo si parla tradizionalmente si parla del della metà del quattordicesimo secolo per l'introduzione della prima macchina da seta all'opera del famoso bolognino di borghesano da lucca più o meno quello è il periodo in cui si è sviluppata l'industria della seta sicuramente ecco questa capacità ingegneristica di riuscire a creare macchine estremamente sofisticate estremamente efficienti in grado di lavorare con portate d'acqua estremamente limitata è una cosa abbastanza particolare probabilmente è suggestivo probabilmente sbagliato però è suggestivo immaginare che il fatto che oggi bologna sia leader mondiale per la meccanica di precisione le macchine automatiche meccaniche progettate a bologna sono leader a livello mondiale abbiamo le aziende che esportano in tutto il mondo in quest'ambito è suggestivo pensare che questa capacità ingegneristica venga da lontano e dalle nostre derivazioni dalle nostre chiavi che derivazione del canale di reno e del canale di savena quindi questo connubio tra chiavi che da una parte e un altro elemento interessante quello delle cantine perché le chiavi che venivano derivate la canaletta essenzialmente sotto al suolo entrava nelle cantine delle abitazioni che poi per cui queste abitazioni erano diciamo in parte tali ma in parte anche opifici quindi la parte della cantina veniva utilizzata per far funzionare le macchine idrauliche e le macchine meccaniche azionate dall'energia idrauliche erano ai piani superiori quindi macchine anche di certe dimensioni il tutto sfruttando la pendenza naturale che c'è nella zona del canale cavaticcio ecco quindi questo è l'ambito delle acque di bologna stiamo parlando di reno aposa savena canali di rene canali di savena questa questo grande numero di derivazioni molte delle quali esistono ancora cambiata la finalità del dell'utilizzo delle delle derivazioni non si fa più andare macchine idrauliche ma esistono ancora e non sono più questa è una nota importante non hanno perso la funzione di trasporto di acque nere perché per lungo tempo le chiavi che bolognesi effettivamente mescolavano acque chiare e acque nere ma su questo magari ci torniamo allora fiume reno e torrente savena torrente aposa più qualche canale artificiale va da sé che la storia degli idronomi è abbastanza semplice ma è semplice proprio per l'eseguità di questi di questi idronimi cioè avendo sostanzialmente un fiume un ruscello e un torrente i nostri progenitori come li avranno chiamati li avranno chiamato fiume ruscello e torrente non c'era bisogno di dire ma questa è la via la chiamiamo dei san pieri perché c'è il palazzo dei san pieri però prima che ci avvitassi dei san pieri fosse un nome diverso questa via la chiamiamo ruga degli speciali perché ci sono le ci sono i farmacisti poi magari la chiameremo tutte tutte denominazioni spontanea non c'erano nel medioevo non c'era non c'erano delibere per assegnare i nomi le vie però questi nomi le vie la ruga degli speciali diventata ruga dei beccari ma ce l'hai sinonimo beccari da scannabecchi che diventata ruga degli scanabecchi poi diventata via degli orefici quando ci sono arrivati gli orefici con le loro botteghe no non con le corsi d'acqua questo bisogno non c'è e quindi scopriamo a questo punto senza alcuna sorpresa che gli idronimi bolognesi sono antichissimi partendo dal reno tutti sanno che il reno bolognese un importante omonimo che il reno tedesco ed effettivamente il l'idronimo reno è di origine celtica le popolazioni celtiche affiancare sostituiranno progressivamente negli etruschi nella nell'antica felsina e poi ci fu il periodo romano della bononia e così via ecco quindi il l'idronimo reno è precedente all'occupazione romana quindi stiamo parlando di qualcosa che ha più di venti secoli il celtico renos renos che ha significato di che cosa di corso d'acqua ovvero di fiume cioè i celti hanno chiamato il fiume reno con quello che è non c'era bisogno di dire di usare tanti nomi è un fiume e questo è il nome che hanno utilizzato il diciamo il torrente io ho detto poco più che un ruscello ma che è così che è l'aposa che attraversa il centro di bologna l'unico dei corsi d'acqua significativi che attraversa il centro di bologna ecco noi quando parliamo di aposa abbiamo l'impressione di parlare di un nome un idronimo nome di corso d'acqua che sia veramente un nome bolognese abbiamo la via val d'aposa bologna che identifica un antico corso del torrente aposa abbiamo il nome aposa citato negli istituti negli statuti di bologna della metà del del dodicesimo del tredicesimo secolo quindi potremmo credere che quest'idronimo è caratteristico di bologna ma non è così non è così l'idronimo si base innanzitutto su una radice indoeuropea prelatina questa radice indoeuropea prelatina si condensa nelle prime lettere del nome aposa queste lettere sono app aps au au aux aux che hanno il significato di che cosa di acqua di fonte di ruscello quindi ancora una volta il diciamo il significato che c'è dietro al l'idronimo aposa è quello di un corso d'acqua e se pensiamo che l'aposa ci sia solo a bologna insomma abbiamo nelle marche ci sono tre torrenti apsa c'è l'apsa di san donato l'apsa di macerata e l'apsa di colbordolo sempre nelle marche ma in un altro bacino quello del metauro c'è un altro ruscello apsa quindi diciamo nelle marche ci sono ben quattro corsi d'acqua che si chiamano apsa poi c'è un torrente aspio ma soprattutto c'è in emilia romagna c'è presso rimini c'è il torrente ausa poi c'è anche un'ausa a forli in popoli questa è una curiosità però soprattutto c'è un lausa a rimini che ha avuto rilevanza storica ed è affascinante scoprire che ci sono delle analogie casuali ma fino a un certo punto con l'aposa bolognese un'analogia è che l'ausa è stata utilizzata in epoca romana come confine orientale della città quindi accanto al la porta romana di rimini che guarda verso levante passava passa la lausa e costituendone quindi il fossato orientale esattamente come l'aposa a porta ravegnana dove c'è ancora il residuo del ponte romano sul torrente aposa e questa è una coincidenza singolare altra coincidenza è che dall'ausa di rimini fu derivato un canale artificiale una derivazione artificiale dell'ausa che è stato chiamato a vesella ora a bologna esiste anche una via che si chiama vesella che si chiama così perché era percorsa da una derivazione del dell'aposa anche perché a bologna sinonimo di aposa già negli statuti del tredicesimo secolo è avesa in lingua bolognese aposa si dice avza ecco una vesella c'era anche a rimini e questo è veramente straordinario la vesella di rimini era chiamato anche fossa patarina perché fossa patarina perché passava accanto al tribunale dell'inquisizione di rimini e i patari era con patari si indicavano gli eretici in generale in realtà la pataria era un tipo di eresia simile ai catari di cui eronamente stato spesso usato come sinonimo però di fatto sta che fosse patarina perché passava vicino al tribunale dell'inquisizione dove si giudicavano i eretici di rimini e a bologna c'è una via che si chiama via dell'orto che non lontano dal dal corso dell'aposa che oggi è coperto però via dell'orto finiva veramente nei pressi del greto dell'aposa e via dell'orto nel quindicesimo secolo veniva chiamata via patarina per quale ragione perché conduceva al tribunale dell'inquisizione dove ne venivano giudicati gli eretici chiamati anche qui come a rimini patari e queste sono coincidenze singolari che fanno riflettere comunque c'è un'ausa anche a fuori in popoli l'idronima vesella è diffuso addirittura l'avvisio delle dolomiti che in lingua nel tedesco antico è l'ascherbach quindi la pronuncia diventa diventa sdrucciola come aposa sono sono tutti idronimi che hanno la loro radice in epoche antichissime pre latine il cui significato è comunque legato a quello di acqua è noto è noto il significato di una parola etrusca che è savena savena è di origine etrusca che comunque si basa anche questa su una radice indoeuropea che è anche questa savena vuol dire vena d'acqua in etrusco almeno è stato tradotto in questa maniera ed è questo il significato del di questa radice indoeuropea che comunque troviamo in parecchi altri corsi d'acqua italiane abbiamo il torrente sabato il fiume sabato in campagna un torrente savan che nel bacino del volturno in campagna un torrente savone nel sempre in campagna confoce nel tirreno un fiume savuto in calabria un torrente insomma abbiamo diversi esempi di questa radice comune con il nostro torrente savena e se andiamo all'estero abbiamo una salve in francia un seven un seven in inghilterra ecco questo per dire che i nomi dei nostri fiumi sono quanto di più semplice e prevedibile ci si possa immaginare hanno sono tutti idronimi che hanno il significato di quello che rappresentano vale dire di corsi d'acqua poi ci sono ci sono torrenti minori diciamo così abbiamo per esempio alcuni dei quali antichissimi pensiamo per esempio al ravone al meloncello sono documentate addirittura nel decimo secolo dove si parla del rappone iuxta meloncellum quindi di un corso d'acqua ravone rapone iuxta vicino al meloncello che è il nostro meloncello quindi non documento solo della metà del novecento novecento decimo secolo che testimonia due corsi d'acqua con i nomi che sono rimasti tale quale il il ravone anche questo il nome l'idronimo del ravone è legato a diciamo parole molto antiche alla base del ravone c'è il verbo latino rabbio che vuol dire sono furioso furibondo da cui viene anche rabbia e che si basa su una rindice europea indoeuropea prelatina che che è reb che vuol dire che ha il significato di muoversi con violenza quindi il nostro ravone è un torrente rabbioso piccolino però capace e lo è stato in passato capace di piene pericolose meloncello è viceversa di difficile derivazione forse si può parlare di una gens latina una gens melonia chi lo sa sono tutti ipotesi però sicuramente la derivazione da una radice prelatina è discutibile per quel che riguarda il meloncello però e diciamo qualche lasciamo qualche mistero abbiamo un rio rio meloncello antichissimo di cui non sappiamo bene interpretare il nome abbiamo il torrente lavino che è di facile interpretazione perché lavino ha la stessa radice di slavina che viene dal dal verbo labi che ha il significato di cadere crollare scivolare quindi che è legato appunto al anche il concetto di slavina purtroppo di grave attualità in questi giorni poi le leggende dicono che lavino visto che c'era una città del lazio antica città del lazio che era la vinium c'è una una leggenda mai mitologia per cui si dice che la vinium sia stata fondata da enea fuggito da troia e che la vinium fu dato dal funome data alla città in onore della sposa di enea che si chiamava la vinia chiaramente queste sono sono storie carine ma assai probabilmente proprio il termine di la vinium era legato al territorio in cui la città ha cresciuto che era un territorio paludoso acquitrinoso e così via quindi probabilmente il significato era molto più terra terra che non quella del di un nome derivato dalla moglie di enea d'altra parte bologna stessa abbiamo la posa che secondo una leggenda il nome della moglie di ferro fondatore di bologna che sarebbe anegata nel torrente ferro avrebbe dato il nome di apos al torrente e poi sarebbe stata anche la persona che costruì il ponte che noto poi come ponte di ferro vero ponte di ferro che era il nome di uno dei tratti dell'attuale via farini insomma per dire che storie interessanti ma da cui prendere con cautela le distanze manteniamo un un diciamo interesse su un altro idonimo di un corso d'acqua importante citata negli statuti di bologna della metà del tredicesimo secolo che è la fossa cavallina sul quale sul significato di fossa non c'è da dire molto perché è un corso da corso con poca acqua perché cavallina non si sa bene tante ipotesi ma non da dove si è derivato questo nome non si sa chiaro il significato di rio valle scura che era un idronimo documentato tra 1259 1260 sempre negli statuti di bologna come valle scura quindi una valle poco luminosa quale è quella da cui scende questo rio perché è una valle rivolta scende da sud verso nord qui è una valle che normalmente è in ombra ecco poi abbiamo altri corsi d'acqua interessanti dal punto di vista storico uno di questi è il savana abbandonato ma del savana abbandonato il nome non è assolutamente interessante interessante la storia perché il savana abbandonato nasce come antico corso del savana prima della deviazione che fu fatta nel 1776 presso l'attuale via cavedone non lontano da san rufillo comunque territorio di bologna in cui cavedone poi indicava uno sbaramento fatto di terra per deviare il corso del del fiume il cavedone è rimasto come nome alla via ma lì fu deviato il corso del savana che passava fino ad allora vicinissimo alla alle mura della di bologna passava dalla parrocchia di sant'egidio per intenderci quindi veramente nei paraggi della città di bologna ed è anche questo una delle ragioni per cui si si sospetta che con percorsi differenti da quello dell'attuale canale di savana però le acque del savana siano state portate in città ben prima di quel 1776 ufficiale che viene citato normalmente nelle storie del torrente sale esiste una serie di altri condotti creati dall'uomo parliamo del per esempio della canaletta ghigigliera che una derivazione del canale di reno che oggi viene spillata all'altezza di via sabotino ma la concessione la concessione per la canaletta ghigigliera prevedeva una derivazione all'altezza della canonica quindi alla croce di casalecchio poi questa concessione prevedeva che la derivazione potesse essere espostata ed effettivamente fu fatta stiamo parlando del quindicesimo secolo dove dove la canaletta viene derivata attualmente quindi all'altezza di via sabotino canaletta che oltretutto alimenta alimentato diversi mulini importanti tra cui il mulino di ravone chiamato così ma era in realtà sulla ghisigliera ghisigliera e ravone percorrono un lungo tratto uno accanto all'altro mulino del chiù mulino della pescarola mulino borgoglino sono tutti mulini attivi in epoche molto remote mulino della pescarola fu posseduto e voluto da giovanni secondo bentivoglio quindi stiamo parlando di epoche veramente remote poi altri altri canalette artificiali utilizzate per lo scolo delle acque per far defluire le acque dal centro della città verso l'esterno la maggior parte veniva convogliate nel canale cavaticcio tra poco ne parliamo ma altre tipo la canaletta della dosa venivano portate fuori dalla mura della città direttamente e poi si perdevano alcune andavano a finire nel savano abbandonato altre andavano a finire altrove la canaletta della dosa è una di queste e dosa è un idronimo molto semplice perché viene dal latino ducere che è legato al significato di condurre condotto quindi dosa è un sinonimo di condotto o di canaletta se volete c'è esiste nei diciamo nei paraggi del ho citato prima la parrocchia di sant'egidio nei paraggi esiste una via che si chiama vezza che è un percorso più importante di quello di oggi in antichità ma anche vezza è legato ai corsi d'acqua perché viene dal latino medievale vezia che ha appunto un significato legato a corsi d'acqua giusto per completare lo scenario esistono altri scoli con nomi interessanti tipo lo scolo canocchia documentato sicuramente almeno dal diciottesimo secolo con questo nome di facile derivazione perché deriva da canna quindi canne palustri che evidentemente abbondavano ed abbondano nei pressi di questo di questo scolo tutore esistente così come tutore esistente lo scolo cava o dosolo come dosolo è idronimo piuttosto antico perché citato negli statuti di bologna del 1250 dove si stabilisce di costruire un ponte super doxulum statuimos et ordinamos quod per homines de pollicino polesine e de calderara debat fieri uno sponso super doxulum eccetera 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 questo dosolo probabilmente le termine ha la stessa radice di dosso col significato di probabilmente argine che si comprende molto bene trattandosi di una canalizzazione artificiale ecco tutti questi canali dosolo che si è anche chiamato cava correva parallelo a una via che si chiamava cava che è l'oderna via della salute che prima di chiamarsi via della salute si chiamava cava perché si chiami cava non è ben chiaro faccio fatica a credere che si chiamasse cava si fosse chiamata cava per una cava sul greto del reno perché il reno è troppo lontano però è una delle ipotesi sul piatto della bilancia ecco tutti questi corsi d'acqua compreso un tratto del torrente lavino seguono e questo è singolare non inaspettato ma curioso che non molti sanno seguono i percorsi definiti dalla centurazione dell'ager centuriatus romano l'ager bononensis fu diciamo bonificato fu reso agibile per l'agricoltura dai romani con la suddivisione in appezzamenti di terreno chiamati centurie di esattamente 200 iugeri l'uno in metri attuali parliamo di quadrati di 710 metri di lato se uno guarda una cartina ma basta google maps va a vedere su google maps non si può non notare che ci sono delle vie e guardando meglio anche dei corsi d'acqua che seguono questo reticolo dove la distanza tra linee parallele è esattamente di 710 metri venivano divise queste linee in cardini che grossomodo andavano da sud a nord e decumani da est a ovest e per cui vediamo che c'è la via bassa dei sassi piuttosto che la via larga che sono su due cardini della centuriezione romana nei pressi di Granarolo via del Frullo ma anche via Roma e via San Donato sono su cardini e decumani della centuriezione romana Granarolo è attraversato da via San Donato e esattamente ortogonale c'è via Roma via Roma era su un decumano della centuriezione romana via San Donato in quel tratto segue esattamente un cardine il corso del Navile stesso nel territorio di Castelmaggiore segue un importante cardine della centuriezione romana tratto del Lavino insomma questi percorsi hanno radici molto antiche a volte antichi quanti i loro nomi perché abbiamo visto che appunto Apos, Savena, Rene eccetera eccetera affondano le radici dei loro nomi nell'antichità è giusto per chiarire la centuriezione romana prevedeva che queste linee di confine tra una centura e l'altra venissero sfruttate come strade che potevano essere vicinales o pubbliche cioè strade che sfruttavano questi confini per spostarsi da un punto all'altro potevano anche essere private se erano nell'ambito della stessa proprietà e fossi di scolo che tipicamente erano i cardini orientati da sud verso nord quando ho introdotto la centurazione romana ho detto che grosso modo da sud verso nord in realtà la centurazione poteva seguire due criteri fondamentalmente in realtà di più però per semplicità diciamo due criteri uno che era quello astronomico quello seguito già dagli etruschi prima dei romani se uno va a vedere quella che una volta si chiamava la città etrusca di Misa Mardabotto che in realtà Misa non è il nome della città etrusca la città etrusca si chiama Cainua poi Pian Misanello dove fu trovata dove furono trovati i resti ha generato un nome sbagliato che è quello di Misa a Bologna c'è una via Misa accanto a via Felsina la via Felsina è nome vero di città etrusca Misa no ecco si sappia questo ecco i cardini decumani di Cainua sono orientati in maniera astronomica quindi il cardine di Cainua è esattamente orientato da nord a sud e oltretutto è un orientamento che basandosi sul soggere e l'elevare del sole è reale non risente della precessione degli equinozi per cui pur essendo stata Cainua fondata 2500 anni fa grosso modo ha mantenuto perfetto l'orientamento nord-sud del suo cardine massimo i cardini e i decumani dell'Agel Centuriatus Bolognensis invece erano non secundum celum non quindi secondo l'astronomia ma secundum naturam quindi in base alla pendenza del terreno quindi i cardini erano orientati in direzione di massima pendenza del terreno e i decumani in direzione di minima pendenza del terreno la cosa è vera anche per la città di Bologna il decumano massimo l'asse Viugobassi-Vier Rizzoli praticamente ha un dislivello inferiore al metro tra piazza di Porta Ravegnana e l'imbocco di Via San Felice mentre invece è di decine di metri tra Porta San Mamolo per intenderci e Porta Galliera di preciso non so non ricordo però potrebbe essere una ventina di metri che è evidente se uno va in piazza Maggiore si percepisce che piazza Maggiore non è perfettamente pari ma pende pende perché pende come tutta la città e pende verso la direzione dei Cardini della Bononia Romana ecco quindi abbiamo visto un po' fatto un po' partendo dagli idronimi in realtà abbiamo allargato un po' il discorso voglio solo aggiungere un'altra cosa per quel che riguarda i canali artificiali che non sono limitati al solo canale di Reno e canali di Sameda ma c'è un canale importante che è il canale Cavaticcio perché è poi quello che alimenta il porto di Bologna e che uscendo da Bologna cambia nome raccoglie le acque del residuo e dell'altra parte del canale di Reno cambia nome anche quello si chiama canale delle muline e dell'Aposa e del torrente Savena del canale di Savena e diventa canale navile che ha reso possibile la navigazione bolognese da tempi in memore il porto di Bologna è stato fondato dentro le mura della città a metà del Cinquecento però già alla fine del Quattrocento c'era un porto all'altezza di Porta Galliera voluto dai Bentivoglio c'è stato un porto al Maccagnano che un porto al Maccagnano vuol dire la chiusa cosiddetta della Bova Bova e Sostegno sono due sinonimi Sostegno è la chiusa vinciana sinonimo di Sostegno chiusa vinciana è Bova quindi quando uno dice Sostegno della Bova è insomma quantomeno ridondante come termine ecco sul canale Cavaticcio il cui idronimo è di incerta interpretazione uno può pensare che il Cavaticcio si chiami così perché è stato scavato non si sa se è stato scavato sicuramente è un'opera di un'opera importante di in cui l'intervento dell'uomo è stato decisivo nei pressi del canale Cavaticcio sono state ritrovate in epoca recente esattamente quando è stato realizzato il parcheggio sotterraneo che si accede da via del Rondone dice un parcheggio multipiano facendo lo scavo che è immediatamente a nord di via Riva Reno è stato trovato traccia di una chiusa e di una derivazione sconosciuta del canale di Reno che ha buttato carte 48 tutte le teorie esistenti sul diciamo sull'evoluzione di canali di Reno e delle sue derivazioni una chiusa che è stata dismessa questa è l'impressione alla fine del XIV secolo e di cui nessuna cronaca nessun atto parla a meno che non ci sia un errore di interpretazione dei documenti attuali per cui quando noi leggiamo Clusam e pensavamo alla chiusa di Casalecchio magari non sia questa chiusa qua che è tutt'altro che Casalecchio però insomma questo solo per dire che la situazione è ancora in maniera affascinante tutta da scoprire ecco il cavaticcio era anche il punto di raccolta delle acque derivate dalle canalette chiaviche di cui si è parlato all'inizio della chiacchierata quindi abbiamo detto che centinaia di chiaviche ciascuna delle quali per quel che riguarda i canali di Reno era contraddistinta da un numero le chiaviche venivano numerate in maniera progressiva spesso da un nome che comunque faceva riferimento molto spesso alla via attraversata dalla chiavica la numerazione è fondamentale perché era un sistema per raccogliere le tasse perché chi sfruttava le acque e i canali di Reno pagava in virtù di quanta derivazione ovvero di quanto erano grandi le bocche dal cui veniva derivata l'acqua del canale di Reno tutte le acque dopo avere prodotto energia venivano immesse mediante l'ultimo tratto di canale che si chiamava scolatore termine tecnico nel canale di Reno quasi tutte alcune uscivano mediante altri condotti penso al condotto del Maglio piuttosto che alla canaletta della Dozza di cui ho parlato prima questo però è da un certo punto di vista un giro virtuoso perché vuol dire che le acque riciclate venivano riutilizzate nel canale navile quindi rese disponibile per la navigazione e non solo ma anche per l'irrigazione della pianura bolognese quindi questo è un aspetto sicuramente interessante il rovescio della medaglia è che le acque raccolte dalle derivazioni del canale di Reno e anche del canale di Savena non facevano andare solo naturalmente gli opifici ma raccoglievano anche le acque nere quindi raccoglievano le acque nere mediante condotti che poi erano questi che andavano a finire nel cavaticcio nel canale navile chiamati chiavicotti progenitori delle moderne fognature quindi questa mescolanza di acque chiare e di acque nere evidentemente è un dal punto di vista dell'igiene pubblica non è il massimo e questo spiega come fino all'inizio del novecento Bologna si è stata periodicamente afflitta da epidemie di colera un importante nel 1855 che causò diverse migliaia di morti in una città che aveva 70.000 abitanti ma ogni 10-15 anni c'era un importante epidemia di colera quindi con problemi di lazaretti dove ricoverare i malati eccetera 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 teniamo presente che la moderna fognatura Bologna è nata praticamente l'altro ieri la prima fognatura degna di questo nome di Bologna è datata 1913 quindi a ventesimo secolo iniziato da un bel po' e riguardava alcune vie del centro storico di Bologna via Rizzoli piazza Maggiore poco più quindi ringraziando il cielo le cose le cose sono cambiate stanno cambiando perché i canali il canale di Reno è tornato per importanti tratti alla luce nel centro di Bologna perché comunque è stata fatta la separazione delle acque chiare e delle acque nere per il canale di Reno opere di questo tipo sono in corso per i canali di Savena e mi piace ricordare un utilizzo dei canali di Bologna che è sconosciuta in più ma che è importante e che è testimoniato dall'assenza nel centro storico di Bologna di effetti disastrosi a seguito di bombe d'acqua sappiamo che la bomba d'acqua che fino a poco tempo fa era sconosciuta oggi purtroppo è diventato di terribile attualità in molte città d'Italia le bombe d'acqua causano un fenomeno comune che è quello che le acque escono dai chiusini delle fognature ed invadono le strade nel centro di Bologna questo non avviene mai per una ragione precisa perché quando le previsioni meteo diciamo danno indicazioni di allerta vengono chiuse le derivazioni del canale di Reno e del canale di Savena quindi in altri termini i due canali che attraversano Bologna vengono seccati rendendo disponibile la rete di Rene del canale di Savena con le relative ramificazioni atte a raccogliere le acque reflue della pioggia quindi questo quindi di fatto succede che a Bologna ringraziando il cielo questo fenomeno ringraziando il cielo ringraziando anche l'opera dell'uomo che in questo caso è stata virtuosa questo fenomeno disastroso delle bombe d'acqua non dà effetti gravi e fate la prova quando a Bologna piove previsto pioggia andate a vedere qual è lo stato del canale di Reno dagli affacci e vedrete che straordinariamente sarà secco questo perché tutt'oggi i consorti del canale di Reno e di Savena provvedono a questo tipo di servizio che è molto importante ecco io mi fermo qua avrei voluto dire tanto di più ma il tempo è come sempre tiranno un ringraziamento particolare al approfitto non l'ho mai fatto ma lo devo fare ora più che mai al Museo Civico del Risorgimento che oltre a darmi questo spazio mi ha aiutato e mi sta aiutando nella pubblicazione dei contenuti oggetto anche delle mie chiacchierate quindi sulla odonomastica della città anche della storia dell'idronomastica dei corsi d'acqua ma non solo anche dei loro percorsi eccetera eccetera sotto il titolo di Origini Bologna un paio di volumi sono stati stampati e ne usciranno qualche di un altro lo dovevo un ringraziamento che dovevo assolutamente fare io mi fermo qua e vi ringrazio tantissimo per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti